La caduta degli dei, dopo Ronaldo anche Messi fuori dalla Champions, il Paris Saint Germain di Mbappé ha eliminato il Barcellona. La Juventus davanti al rosso dei conti venderà, ma stasera in Europa League il Milan sarà a Manchester contro l'United. Formazione d'emergenza contro la squadra dell'ex dell'Udinese della Samp Fernandes. Donnarumma, Chier, Calabria e Chessy, Baluardi, Rossoneri. La Roma affronterà lo Shakhtyar di Castro con Mkhitaryan di punta e Dzeko in panchina. Fonseca contro il suo passato. Domani due anticipi di campionato. In Lazio-Crotone saranno in gioco la possibilità di fare la Champions dei Romani e le ultime speranze di salvezza della squadra di Cosmi. All'andata la Lazio si impose per 2-0. Atalanta-Spezia, prova generale dei Bergamaschi in vista della sfida al Real. I Liguri, avversari molto agguerriti. Andata 0-0. Nella corsa al Primato terranno Banco Torino-Inter e Milan-Napoli.